Ma che bontà questa omelette con spinaci e ricotta, è cremosissima, è gustosa ed è facile da fare. Lava gli spinaci, versali in una padella con un goccio d'olio, metti il coperchio e fai cuocere per 5 minuti mescolando ogni tanto, senza aggiungere acqua. Regolate di sale, aggiungete il burro e proseguite la cottura. Tagliate a cubetti il formaggio, versate in una ciotola le uova, aggiungete dell'olio, un pizzico di sale e del pepe e sbattete con una forchetta. Versate dell'olio in una padella, quando la padella sarà ben calda, versate le uova sbattute precedentemente, fate addensare facendo attenzione a non farle asciugare troppo. Aggiungete poi gli spinaci, la ricotta e i cubetti di formaggio. Ripiegate la frittata, coprite con un coperchio e lasciate a fuoco basso per un minuto, poi spegnete e lasciate riposare. In modo da far sciogliere il formaggio, servite l'omelette spinaci di cotta calda o a temperatura ambiente, buona, facile e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu.